Il vecchio palco della Carabella era là dove la piscina, adesso lo vedete dal vivo, il De Magno non ha dato nessuna autorizzazione, qui è inarcata qui e inarcata là, c'erano i gabineti di spogliatura, poi lo vedi lì che c'è stato fatto il riempimento, vedi i gradini che sono uguali, è stata fatta nel 37, 35 è inaugurata nel 37, vedi una, due, poi hai tutto il riempimento, poi facevano la festa della birra, guarda il muro vecchio, c'è un disegno, se vai sul comune hanno la cartina figlia quella degli anni 60, questo vedi, questo si scende, si scende, ecco, in direzione alla grana, allora 25, 1, 2, 3, 4, 20 e avanti, 5 e 6, la vedi qui, guarda dove va a finire questa qua, verso il Gogiano 4, 9 r�, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, Qui c'è la discesa, anche qui l'hanno buttata l'aria, vedi che colleghava con l'aria? Sì, guarda che lavoro, e questo dopo andava là, vieni a vedere, guarda, lì c'era il palco, lì c'era il palco, vedi, era data in concessione al comune, il comune poi l'ha rilasciata lo so a chi, qui però è il comune, è il comune che è responsabile, questo palco qui bisogna andare a vedere, secondo me non ha nessuna concessione, come mai che le due arcate vecchie e poi queste due arcate di qui che erano gemelle l'hanno buttate giù? Sì, ma qua è un peccatissimo troppo. Scusa, ma il palco era là, il demagno non è adatto il permesso. E' bello, perché è bello, ma però a me mi piacerebbe che la caravella ritornasse Laura, come era dei marinelli di una volta. Scusa, ma io c'ho una famiglia di finitrani e poi ci l'amminizziamo perché in certa costano. Io non lo so, hanno fatto di quei lavori che poi andava avanti, che andava avanti e riscendeva parallelo a quello là. che devi fare? Un interpellante. E' stato fatto abusivismo dentro la caravella. Chi ha rilasciato il permesso di fare questo palco qua? Il demagno no. Quindi dovevano avere il permesso dal demagno, secondo me, se c'è qualcosa di abusibile. E come mai che le arcate vecchie della caravella loro ti riponeranno marcia? Ma il demagno lo sa. Anche se erano marcele, li costruiscono. Ma era chiamata Laura, la caravella, lo sai perché? Perché era fatta come la caravella. Vedi che è fatta come la caravella. Qui vogliono proprio levare la memoria, vogliono levare tutto. Qui sono barbari.